Siamo in ritardo Io adesso mi sto dirigendo per prendere il pullman e noi ci vediamo dopo E sfrutto questo momento per dirvi di lasciare un bel pollice in su perchè io vlog ogni giorno, girls! Io mi baccavo E abbiamo greci Come ad esempio Latoi Aristote E poi non sa niente Gli amici intimi si portano ovunque Grazie La scensura Bye Grazie La scena di pompa La scena di pompa La scena di pompa Sta arrivando qui Sono in classe in preparazione per il tema di italiano L'ultimo tema, anzi no, io lì ho anche una verifica di diritto e mi stiamo aspettando un attimo perché sto facendo le fotocopie E ci vedremo dopo Per fortuna sono riuscita a finire il tema, cioè devo finirlo domani però sono riuscita a concluderlo Sto andando nel bagno dei professori, non si può ma... io posso Entriamo senza pagare, come calzatori, sei qui là Magari, no, non ti sono pronta Ho preso 9, economia! Non ce l'ho! 9! Che quanto è messa? 9! 9! 9, sento pronta Sono solo amiche Stiamo facendo le medie con il professore e ancora non ho detto la mia medie quindi sto aspettando Sto aspettando che dica la mia medie e se... no, festeggia... Ma sei scema? Festeggia amore! Funcomanda! Quattro! Non vuoi sentiamo la mia? Mi scusate! Excuse me? E perché? e noi ci vediamo dopo peace wow che luca eres 1,2,3 dato che io sono una vera youtuber non vi ho fatto vedere l'outfit di oggi e quindi sono qua pronta per farvelo vedere marino play mafia and you know all it dangerous talk my shit no changin' us you can't smoke no dank with us all your dogs be fake as fuck all this cash we breakin' up baby take this ape this love can't stop cause I ain't made enough bitch I need them paper because I'm the type to smoke it till I faded time to roll up let's get on blazing thanks to Elena the photographer ormai fotografa di Duccio si bisogna rientrare in classe e mi scuso se oggi non ho fatto tante clip perché abbiamo fatto davvero tante cose abbiamo fatto il tema e ci ha dato le verifiche? si ho preso 9 e noi ci vediamo domani con un nuovo vlog e domani succederà una cosa davvero davvero bella quindi state aggiornati attivate le notifiche del canale perché è importante e io perché vloggo ogni giorno e niente ci vediamo domani bacione anzi ci vediamo dopo un attimo ok io sono una daily vlogger prof che ci fai daily vlogger vloggo ogni giorno quello che faccio è d'accordo con quello che faccio? o pesadero ahah ahah lo voglio fare voglio vloggo ogni giorno della mia vita vloggo vloggo stiamo decidendo tutti insieme per la nostra vacanza per il nostro ritorno al mare l'ultimo giorno di scuola perché di solito andavamo sul monte però l'anno scorso hanno bruciato le panchine quindi non possiamo andare perché andiamo al mare ovviamente vi porterò anche lì come sempre perché la cucina? stai cucinando la profuma al buonio io cucino voi datemi what? io sono sempre disponibile ok a lei piace un sacco vero Marika? giratevelo mamma can you come pick me up? una gatta aggressiva miau ahahah vi a tutto il popolo di vloggo quanto sono importanti per te nella tua vita inquadrami bene allora dovete sapere che la giga è una persona magnifica e fai dei video veramente fantastici dovete guardarli iscrivetevi al canale soprattutto e attivate le notifiche un bacio un bacio un bacio un bacio come le ragazze con il grilletto facile non ti amo 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 volevo ringraziare a tutti Sì, 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 sì Sì, sì, sì No Ok Ok Hate Hate, 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 hate Hi Ehm Aroma Ehm Allora Mi accompagnerete fino a casa perché mia sorella deve andare con la sua amica Duh Oggi è una giornata un sacco calda E io mi sono messa a questa cosa In più avevo anche un giacchetto A senso che era caldo Non è troppo caldo E' un sacco caldo qua Infatti poi io vivo tipo in un paesello Quindi se qua è caldo Voi morite Che abitate in città voi morite di caldo Aaaaaaah Scusate se oggi non ho vloggato tanto Tornerò ogni giorno A vloggare come al solito Oggi ho avuto tante verifiche Poi un prof Genio Ha messo Una verifica Lunedì Che finisco di andare a scuola Il 9 di giugno E lui mette una verifica Una settimana prima della fine della scuola What? Oddio Non è che ho perso la chiave Eccolo la mia casetta Come il crimine Senza regole Eccolo Che mi sono distratta Oh no Too many things have been buildin' Been hard to deal with I just been drinkin' Remember my moves in the past I'm wondering what was I thinking Lately I'm living in fear Wondering what if the end is so near Scusate mi sono distratta Anyway Spero che il vlog di oggi vi sia piaciuto Ricordatevi che io Vloggo ogni singolo giorno Nooooo Yes Noi ci vediamo domani E ricordatevi di lasciare un bel pollice su Di attivare le notifiche Perché io vloggo ogni giorno E good night Sono fuori dal terrazzo Così Ok 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 Grazie.